Avevano percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. I carabinieri di Torre Annunziata hanno sequestrato oltre 60.000 euro a 10 persone indagate per truffa aggravata e raggiunti da misure di custodia cautelare. Il provvedimento è stato firmato dalla Procura della Repubblica del Tribunale Eoplontino. I 10 indagati avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto e ricevuto il sostegno indebitamente da maggio 2019 fino a marzo 2021. per una somma complessiva di oltre 60.000 euro. A fine anno scorso i carabinieri avevano già individuato e denunciato oltre 1.500 persone che avevano intascato il reddito di cittadinanza attraverso una serie di troffe anche a danno di nere inziani che risultavano sulla carta per cettori di diritto. Un'indagine quest'ultima che ha coinvolto oltre il capoluogo anche numerosi comuni dell'area vesuviana. Un'indagine quest'ultima che ha coinvolto oltre il capoluogo anche numerosi comuni dell'area vesuviana.